animula vagula blandula 2021 ugoriva terracotta e ferro l'imperatore adriano compone questa straordinaria poesia in punto di morte e la dedica alla sua anima cercando di capire dove potesse andare adesso che lui appunto era in punta di notte chi poteva proteggerla o aiutarla durante il percorso della vita ugoriva immagina in questa figura femminile molto bella e chiara nel panneggio nella sua posizione che salga le scale della vita portando con sé appunto questa anima candida e queste scale della vita arriveranno poi ad un certo punto in cui si ha il buco nero cioè il nostro corpo rimarrà da una parte e l'anima andrà in quell'oltre che non conosciamo questo aspetto simbolico che ugoriva crea è uno stato bellissimo di in cui pensare che la nostra anima possa viaggiare e permette appunto a ognuno di noi di dare all'uomo durante la sua vita e alla sua anima quell'assenza e quella forza che ci permette appunto alla nostra anima di proteggerla di portarla con noi e di farla volare poi nel più alto dei cieli una volta che il nostro corpo non ci sarà più ed è una reminiscenza che dobbiamo avere questa non come deterrente ma come stimolo appunto per comportarci eticamente e guardare sempre il futuro con speranza e con possibilità di vivere insieme nella bellezza grazie 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 grazie